Emergenza caldo per ora a situazione sotto controllo in Lombardia nei pronto soccorso trend inferiore rispetto a un anno fa. Gli incidenti delle ultime settimane lungo la statale della Val Seriana hanno portato ad abbassare il limite di velocità in prossimità delle gallerie di Albino resterà così finché non saranno sostituite le barriere. In Val Seriana i comuni continuano a investire sui parchi a cene nuovo spazio inclusivo lungo la ciclabile a Fino del Monte novità al Ress. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. In apertura abbiamo come sempre la cronaca, un quarantene rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto intorno alle 12.30 di oggi lungo la statale 639 a Cisano Bergamasco. L'uomo del paese era in sella a una moto che si è scontrata con una Fiat 500 guidata da una ragazza di 21 anni. Il motociclista ha riportato diversi traumi ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Soccorsi in azione nella tarda serata di ieri per recuperare due ciclisti che con il buio avevano perso il sentiero in località Cervera nel territorio di Costa Volpino. La localizzazione è stata molto precisa e veloce grazie alla dettagliata conoscenza del territorio da parte di due tecnici del soccorso alpino. I ciclisti non avevano bisogno di supporto sanitario ma a causa della stanchezza sono stati riaccompagnati a casa dalle squadre. L'intervento è stato effettuato dal soccorso alpino in collaborazione con i vigili del fuoco cominciato intorno alle 22 e terminato circa tre ore dopo. Chiudiamo con la cronaca e proseguiamo con il Tg. Lo avete sentito dai titoli. Sotto controllo per ora la situazione in Lombardia per quanto riguarda l'emergenza caldo o caldo che in questi giorni si è fatto sentire soprattutto nelle città e in pianura. Vediamo il servizio. L'emergenza caldo per ora non sta creando particolari difficoltà al sistema sanitario in Lombardia. Il monitoraggio effettuato dall'Agenzia regionale Emergenza Urgenza in relazione all'andamento delle attività di soccorso sanitario preospedaliero attualmente restituisce una situazione con un trend inferiore all'andamento registrato lo scorso anno nello stesso periodo. Nonostante l'incremento delle temperature e l'aumento dei flussi turistici ad oggi non sono stati registrati picchi di attività in relazione al numero di chiamate giornaliere pervenute al 118 e al numero di interventi di soccorso sanitario effettuati per eventi classificati come medico acuti. La categoria dove sono compresi anche malori da caldo e colpi di calore. Anche l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso parla di situazione sotto controllo. C'è una grande competenza, c'è esperienza in tutta la struttura, in tutta la regione che sta dimostrando infatti che da questo punto di vista siamo ben attrezzati e stiamo gestendo bene la situazione. La direttiva del ministro della salute è stata pienamente recepita, tutte le strutture sanitarie sul territorio sono allertate, sanno come devono comportarsi, in particolare ovviamente il peso maggiore finisce sempre sui pronto soccorsi perché è stato stabilito dal governo e noi non possiamo che essere d'accordo che coloro i quali si presentano al pronto soccorso per un colpo di calore devono essere trattati come minimo come codici verdi. Questo significa che da un lato non si paga il ticket e dall'altro che comunque hanno bisogno di un'assistenza, di un controllo che deve rientrare in tempi compatibili con questo genere di problematiche. Parliamo di viabilità, gli incidenti delle ultime settimane lungo la statale della Valle Seriana hanno portato ad abbassare il limite di velocità in prossimità delle gallerie di Albino. Simone Masper ci spiega perché. Insieme ai disagi con cui ormai quasi quotidianamente gli automobilisti della Valle Seriana sono costretti ad avere a che fare, si sono aggiunti negli ultimi giorni anche i dubbi riguardanti i nuovi limiti di velocità presenti sul tratto di strada statale della Valle Seriana all'altezza delle due gallerie presenti tra Albino e Cene. Nei giorni scorsi sono apparsi nuovi cartelli che indicano il limite di velocità fissato a 50 km orari. In particolare salendo verso l'Alta Valle in poche centinaia di metri si passa dai 70 km orari poco dopo l'uscita di Albino ai 50 prima della galleria fino al ritorno alla velocità originaria, quella dei 60 km orari dalla prima galleria, il tutto nell'arco di un chilometro. Gli automobilisti attenti da subito hanno segnalato attraverso i social la problematica e l'enigma è stato risolto da ANAS, ente gestore della strada statale. Dopo gli incidenti delle ultime settimane nella zona, le barriere presenti in quel tratto sono state danneggiate. ANAS ha così deciso temporaneamente di abbassare i limiti proprio perché le stesse protezioni non stanno svolgendo la loro funzione. Non esiste al momento una tempistica certa per la loro sostituzione, ma la stessa ANAS fa sapere che entro la fine dell'estate si provvederà al loro rimpiazzo riportando i limiti nella norma. Nelle gallerie nulla cambia, con la velocità massima fissata a 60 km orari nella prima perché diretto in Alta Valle e di 70 nella seconda. Oggi Papa Francesco ha nominato l'arcivescovo Monsignor Paolo Rudelli, bergamasco di Gandino, nuovo nunzio apostolico in Colombia. La notizia è arrivata dalla Santa Sede in mattina, ed è stata confermata dall'unità pastorale di Gandino, Barzizza e Cirano, guidata dal prevosto Don Ferruccio Gargentini. Monsignor Paolo Rudelli è stato ordinato sacerdote nel 1995. Dal 2001 al 2003 è stato all'annunziatura apostolica in Ecuador, mentre dal 2003 al 2006 era a Varsavia presso l'annunziatura in Polonia. Dal 2006 al 2014 ha operato come segretario e consigliere di annunziatura alla prima sezione della Segreteria di Stato, prima di essere nominato prelato d'onore di sua santità e ricevere l'incarico di osservatore permanente della Santa sede presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo. Il 4 ottobre 2019 nella Basilica di San Pietro è stato ordinato arcivescovo da Papa Francesco, che a gennaio 2020 gli aveva conferito la nomina di nunzio apostolico nello Stato africano dello Zimbabwe. Cambiamo argomento, il Comune di Clusone cerca un gestore per il centro sportivo Città di Clusone di via Don Beppo Vavassori, dove si sta allenando in questi giorni l'Atalanta. Scopriamone di più. A Clusone è stato pubblicato da pochi giorni un bando per la gestione del centro sportivo comunale in via Don Beppo Vavassori. Spieghiamo questo passaggio come se arrivati a questo bando. Esatto, nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando di gara per la gestione del centro sportivo Città di Clusone che è situato in via Don Beppo Vavassori. Il Comune di Clusone quindi è alla ricerca di un gestore per l'intero complesso del centro sportivo che è composto da un campo 11 in erba naturale, un campo in erba sintetica dimensioni 60x40 illuminato con luci a led, poi c'è un campo da beach volley anche quello illuminato, c'è un palazzetto con 200 posti a sedere, il bar e l'area esterna dove si possono organizzare anche eventi, manifestazioni, fiere e ovviamente tutti poi i locali di servizio che servono appunto per rendere il centro più completo, ovviamente spogliatoi, tribuni eccetera. È un centro che è già stato oggetto di bando nel 2019 per ben due volte ma per queste due volte è andato deserto quindi non si è presentato nessuno. Questo ci ha un po' fatto riflettere e decidere di investire ulteriori risorse. Innanzitutto gli interventi che sono stati fatti riguardano lo scorso anno e sono quello della sostituzione dell'impianto fotovoltaico che era stato installato nel 2019 e non era più funzionante quindi 30 kilowatt. Poi con la partecipazione, grazie alla partecipazione di un bando a regione Lombardia, bando Axel appunto, che si chiama questo mando, il Comune di Clusone ha ottenuto un importante finanziamento quindi abbiamo deciso di aumentare la potenza, portarla a 60 kilowatt, quindi aggiungere ulteriori 30 kilowatt di impianto fotovoltaico e oltretutto installando anche degli accumulatori e questi accumulatori ovviamente permettono di massimizzare l'autoconsumo di energia elettrica e massimizzando l'autoconsumo ovviamente va a diminuire la richiesta di energia elettrica da un fornitore esterno quindi questo aiuta certamente a contenere i costi. Comune di Clusone ha deciso di investire ulteriormente un totale intervento tra fotovoltaico e bar di circa 140 mila euro, quindi nuovi banconi, c'è un nuovo arredo, c'è un nuovo impianto di illuminazione e un nuovo impianto elettrico. Ovviamente è un bar che ha delle potenzialità soprattutto per l'area esterna. Tutte le specifiche del bando sono pubblicate sul sito del Comune di Clusone, dico tre dati che sono quello della minima offerta che sono 5 mila euro, il bando si chiuderà il 25 di luglio e oltre a questo c'è da dire della durata della concessione che sarà di sei anni più sei anni rinnovabili. A Cene è stato inaugurato il nuovo parco inclusivo di via Capitanio realizzato dall'amministrazione comunale grazie al contributo della regione Lombardia. A lato della pista ciclabile della Valle Seriana diventa così uno spazio accessibile a tutti recuperando anche un'area. Vediamo. Il sindaco di Cenediglio Moreni, oggi una giornata importante dopo un lungo iter, quindi questo è il risultato finale. Sì, siamo veramente contenti di essere riusciti a portare a termine questo progetto di parco inclusivo. Abbiamo sistemato questi giochi in un'area adiacente alla pista ciclopedonale, è molto fruibile, quindi i ragazzi possono venire, giocare, rilassarsi e le famiglie possono anche venire a fare un piccolo picnic perché l'area è decisamente ampia, verde, soleggiata e nello stesso tempo ombreggiata dalle piante e è veramente la soddisfazione di tanto tribulare perché è stato un percorso abbastanza lungo e tribulato. In una zona strategica possiamo dire perché è una pista che non è di Cene ma è della Valle Seriana, quindi tutti vedranno questo. Sì, in effetti l'obiettivo era proprio quello di riuscire a fornire un servizio, un'area di sosta o di pausa anche a chi sfrutta il discorso proprio del percorso della ciclopedonale della Valle Seriana. Riteniamo di aver dato un punto di vantaggio, di plus anche alla zona che è leggermente decentrata rispetto a quello che è il parco su serio e quindi la possibilità di godere di un'area verde attrezzata anche qui senza bisogno per forza di spostarsi sull'altro parco. Siamo giunti finalmente al giorno dell'inaugurazione di questo parco, due anni da quando siamo quasi tre ormai che siamo in amministrazione, che seguiamo questo progetto, abbiamo questa volontà di realizzare un parco per tutti, un parco lungo la pista ciclabile della nostra bellissima Valle Seriana, un parco dove tutti i ragazzi e adulti si possono trovare a passare un pomeriggio all'ombra, nel verde, tutti insieme per un divertimento e con tutti i giochi che vedete qua dietro. Parco speciale possiamo dire, un percorso anche speciale quello con Regione Lombardia, con un contributo e com'è fatto? Assolutamente sì, faccio un grandissimo ringraziamento a Regione Lombardia per questa iniziativa, per questi contributi che sono arrivati e ci hanno permesso di realizzare questo progetto, è un bando che risale al 2022, abbiamo perseguito grazie anche ai dipendenti comunali che ci hanno messo un sacco di impegno per poter realizzare quest'opera, ci hanno fornito questi fondi a fondo perduto e adesso a noi non resta che goderci questo bellissimo parco insieme a tutti i nostri bambini. A quanto ammonta quindi il contributo e come è fatto questo parco? Il contributo che ci è stato garantito da Regione Lombardia monta all'incirca a 30.000 euro, qui poi noi abbiamo dovuto far fronte con centinaia di spese e che cosa c'è dentro in questo parco bellissimo, c'è dentro uno scivolo adibito e attrezzato con pannelli interattivi quindi per l'apprendimento sia linguistico sia matematico, abbiamo dei pannelli interattivi nel quale si può imparare il linguaggio dei segni, ci sono delle altalene adibite per tutti i ragazzi e poi ci sono anche dei tavoli che prevedono anche un lato allungato per permettere ai ragazzi o comunque agli adulti che arrivano e hanno bisogno di una carrozzina di potersi sedere senza bisogno di doversi alzare da quello che è la carrozzina. Parliamo ancora di un parco, è stata con alcune novità al Res di Fino del Monte, siamo andati a vedere. Al parco Res di Fino del Monte, lavori finiti, sono stati eseguiti alcuni interventi, spieghiamo quali? Sì, diciamo che qui al parco Res sono stati realizzati due diversi cantieri, il primo riguarda la riqualificazione degli ex spogliatoi della US finese che ha previsto la riqualificazione dell'immobile che era adattato e necessitava di manutenzione, in questo immobile sono stati ricavati degli spazi a disposizione delle associazioni, quindi degli spazi per la US finese, per la Proloco di Fino del Monte e per il gruppo Alpini. Oltre a questi spazi a disposizione dell'associazione è stato inoltre ricavato un nuovo bagno accessibile per disabili che sarà a disposizione degli utenti del parco e sarà accessibile durante tutta la stagione dall'inizio della primavera fino all'autunno H24, è un'area video sorvegliata quindi diamo questo nuovo servizio agli utenti del parco che avranno a disposizione anche un bagno disponibile sempre di fatto. Un bagno a gettone? Esatto, la scelta è andata sul bagno a gettone in primis per poter consentire quindi alla comune di ricavare un minimo di introiti per affidare poi a un'impresa di pulizia la pulizia e la sanificazione del bagno e poi anche per dare un minimo di controllo agli accessi al bagno. L'altro intervento ha riguardato invece la zona del ristorante, cosa è stato fatto? Sì, diciamo che il ristorante aveva questa pecca che era l'accesso dei bagni diciamo dall'esterno quindi gli utenti del ristorante RES per poter accedere ai servizi igienici dovevano uscire dal ristorante e dalla porta esterna accedere ai bagni che erano diciamo misti ristorante e parco pubblico. Abbiamo realizzato due nuovi bagni accessibili direttamente dall'interno del ristorante, un bagno disabile donne, un bagno disabile uomini e sono ad uso esclusivo del ristorante quindi anche gli utenti del ristorante ora avranno dei bagni esclusivi accessibili dall'interno quindi anche durante la stagione invernale quando le temperature sono più rigide gli utenti non devono andare all'esterno ma direttamente dall'interno della struttura possono accedere ai bagni. Qual è stato l'investimento e come siete riusciti a coprirlo? L'investimento è stato realizzato grazie a tre diversi finanziamenti pubblici, tutti e tre a fondo perduto 100.000 euro concessi da Regione Lombardia, 50.000 euro dal Ministero e 35.000 euro dal BIM dell'Oglio quindi tre bandi a fondo perduto che hanno permesso alcuni fino al monte di realizzare queste opere senza investire risorse proprie. Ci spostiamo in Valle del Lui, ormai è diventata una bella tradizione estiva quella dei ragazzi che ad Abbazia organizzano il Luio River Beach siamo andati a scoprire da vicino la manifestazione a pochi giorni dalle fasi finali. Oratorio di Abbazia pieno di vita, da diversi anni tanti ragazzi che organizzano, tanti ragazzi che sono presenti è quanto importante per una comunità un evento come questo? Penso che sia importante e bello soprattutto perché i giovani si sentono protagonisti come detto ma anche perché la comunità adulta vede comunque in questi giovani comunque un segno, un segnale comunque di futuro molto bello e quindi li guarda anche con orgoglio, li sostiene in questa loro attività e dona speranza, dona comunque gioia al vederli così presenti tant'è che passano anche diversi adulti poi vedono e sono proprio felici di questo momento. Altro aspetto molto bello è anche vedere come in questi anni ci sia stato un bel ricambio e anche i ragazzi più giovani comunque si sono messi in gioco nell'accogliere così in questa nostra valle anche persone che arrivano da fuori e scoprono questo piccolo angolo grazie anche allo sport e all'attività in oratorio. Un'iniziativa su cui ha creduto fin dal suo arrivo ad Abbazia? Sì, mi è sembrato molto bello anche perché un gruppo di giovani ha creduto in questo ed è stato anche un modo per rendere vivo in maniera un po' alternativa con uno sport che ai tempi non era così in voga però ha preso piede e ha appassionato sicuramente tanti. Un evento di giovani per giovani e dopo diversi anni una formula che funziona nella piccola Abbazia ha tanti collaboratori e tanti ragazzi che arrivano. Sì, Lujo River Beach è nato nel 2015 dall'idea di alcuni giovani della valle del Lujo eravamo pochissimi all'inizio, quest'anno siamo circa una trentina di volontari siamo arrivati all'ottava edizione come al solito Lujo River Beach è fondamentalmente una festa che ha la sua base nel torneo di beach volley 4x4 misto ma che poi negli anni ha avuto altri tornei, altri eventi paralleli sin dal primo anno abbiamo fatto concerti e anche quest'anno ne abbiamo fatti due uno sabato scorso Entriamo quindi nelle fasi clou, nelle fasi finali di questo torneo che appuntamenti ci sono in programma? Allora, giovedì prossimo ci sarà un torneo di calcio balilla a coppie e uno di ping pong singolo che sono ormai quasi sold out venerdì il giorno dopo ci sarà il torneo di freccette a coppie anche questo è quasi sold out sabato ci aspetta il nostro appuntamento più importante che è il concerto Canta Indy Canta Male che è una serata famosa dell'edonè e della città di Bergamo e poi domenica l'appuntamento con le semifinali e le finali del torneo di beach volley 4x4 misto Quanto lavoro c'è alle spalle? Vi permette anche di stare insieme? Ognuno con le proprie strade, ragazzi cresciuti però a questo fine? Assolutamente sì, l'impegno inizia già in inverno già durerà circa 4 mesi tra organizzazione e poi preparazione pratica qua delle strutture dell'evento e poi il mese di luglio e anche di giugno sono pienissimi perché sono quelli appena sotto al torneo La presentazione di un libro ma anche la pallavolo in acqua è uno spettacolo per bambini e famiglie nel fine settimana a Premolo, sentiamo A Premolo continuano le iniziative organizzate per animare questo periodo estivo ce ne sono alcune anche in questo fine settimana di diverso segno Sì, si inizia diciamo così da questo venerdì con una serata culturale che si terrà presso la Casa dei Premolesi serata tenuta da Marco Carobbio che presenterà il libro La Valle della Speranza libro che ripercore un po' la storia medievale di tutta la nostra Val Seriana e importante anche perché queste tracce diciamo così riguardano anche sicuramente il paese di Premolo per i segni che vediamo ancora come ad esempio un ex convento di questo ordine monastico degli umiliati che fu soppresso da San Carlo Borromeo argomento di cui si parla anche in questo libro quindi sicuramente una bella serata culturale il sabato invece ci sarà durante tutta la giornata il torneo di acquavolley organizzato dal gruppo dei giovani di Premolo presso il centro sportivo di Via Giovanni Prescillorè vicino alle scuole quindi tutta una giornata di festa, musica e divertimento insieme con i nostri giovani sempre questa domenica, domenica 23 ci sarà invece lo spettacolo Bimbo Bell Show presso il piazzale del comune uno spettacolo che avevamo già presentato lo scorso anno ma sicuramente bello da riproporre oltre che con delle novità con artisti che hanno partecipato a programmi nazionali televisivi, ballando on the road tussiche valese, insomma persone importanti ecco diciamo così quindi artisti importanti uno spettacolo rivolto non solo ai bambini ma a tutti gli adulti uno spettacolo molto divertente ci sarà anche una truccatrice che sarà classificata a terze campionati mondiali di trucco quindi una serata bella per tutti cui vi aspettiamo tutti in caso di pioggia la serata si svolgerà comunque regolarmente presso l'oratorio di Premolo presso la struttura appunto dell'oratorio coperta e vi aspettiamo tutti per questi nuovi eventi e per i prossimi che potete sempre vedere e tenervi aggiornati tramite il sito del comune di Premolo e l'app comunale Premolo Smart dove ci sono tutti gli aggiornamenti e tutte le manifestazioni Siamo ormai quasi alla fine del telegiornale prima di salutarci i programmi di Antenna 2 questa sera alle 20.15 l'Alpino il notiziario dell'Associazione Nazionale Alpini alle 20.25 Promo Serio Eventi alle 20.30 Mai Regione alle 21.40 Hard Track alle 22.30 la seconda edizione del TG alle 23.15 Antenna 2 Sport a mezzanotte e mezza la terza edizione del telegiornale l'Almanacco domani è giovedì 20 luglio il sole sorge alle 5.44 tramonta alle 21.09 la luna è crescente sorge alle 8.06 tramonta alle 22.51 la chiesa ricorda Santa Pollinare Vescovo è tutto anche per questa edizione vi ricordo dopo il telegiornale il caffè con le psicologhe e poi le previsioni del tempo grazie per averci seguito e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti